La velatura suggestiva Cebovel Dune Cebovel Dune è una finitura acrilica all'acqua per interni, adatta per ogni ambiente, che permette di ottenere particolari effetti estetici, da sfumature a profondità di colore. Si applica molto facilmente e dopo circa 20 giorni è delicatamente lavabile con acqua tiepida e sapone. Pronto all'uso, Cebovel Dune si applica pennello o guanto su fondo bianco. Sono indicati Decorvel per l'applicazione a guanto e Cebo Sifondo per quella a pennello. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle lavorazioni determinano l'effetto decorativo e cromatico. Con l'applicazione a pennello si passa Cebovel Dune a pennellate incrociate sulla superficie per circa 2 metri quadrati, quindi si ripassa con il pennello scarico per uniformare l'effetto. L'applicazione si continua così, evitando riquadrature nette. Dopo circa 10 minuti dall'applicazione, si liscia la superficie con l'apposita spatola. Scegliendo l'applicazione con il guanto, lo si passa a carico di prodotto sulla superficie preparata per circa 2 metri quadri, con movimenti circolari, per poi ripassare a guanto scarico per uniformare e regolarizzare l'effetto. Si prosegue così l'applicazione e dopo circa 10 minuti si liscia la superficie con l'apposita spatola. Grazie per la visione!